Un evento che non è solo sportivo, come quello che stiamo vivendo insieme, attesta che si possono superare sempre in armonia le contrapposizioni. Voi, noi, restiamo la conferma. 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 Non è una parola. La pace è un processo garantito dalla libertà di abbracciare l'altro con delle differenze etniche, religiose, culturali ed economiche. Voi, noi tutti questa sera siamo la pace. Insieme lo mostriamo al mondo. Viva Teramo e buona Coppa Interambia a tutti noi.